Molise non esiste? Lasciate like! Mi seguiti! Quando di mettere i miei fratelli in quadrature farò un video con Christopher e Ryan il link dei loro canali di YouTube e altri siti che non si possono dire perché sennò YouTube mi mette il bollino giallo ai video tipo il sito viola ma non si può dire il suo vero nome perché mi mette il bollino rosso Sì, quindi come avete letto dal libro dal libro? Dal video Ma porca... Ecco, come avete letto dal titolo oggi studiamo latino ovviamente mi dissocio Guardiamo le re... Mi dissocio Io mi metto qui dietro a dormire, mi dispiace Mi dissocio Adesso qui penso a morire Mi dissocio Guardiamo il video Shish! 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 Dovete sentire come dice Shish con che amore My mother cried in the TV when she felt the Berlin Walls destroyed by the people Because the idea without marketing commercial The result are not good But for country this is also the representation of possibility It was a worker So he invented the telephone to speak about in the theater A genius It wasn't... Allora, prima cosa devi smettere di ridere perché se... Vediamo te a parlare in inglese e basta, eh Io so parlare in inglese Ascoltate come dice bene A genius People to use the copyright License Come si dice il brevetto License License in 80... Adesso, come spesso accade in questi momenti Tocca al polit... Now is the time to eat the lunch And for Italian politician is absolutely crucial to save Now is the time of lunch E ora di mangiare Se il video vi è piaciuto Il canale YouTube guardate tutti i video Divertenti Fa posto Adesso mettiamo un altro link Ryan se ne va Ho pregato gentilmente a miei fratelli di andarsene Ma mi devono un po' rire mentre faccio i video This was the first reaction Shock 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 In our mind Everything Is totally connected With our mind Abis This decision is a decision Brexit is Brexit Infatti questa frase l'ho già sentita all'altra parte Puro il mio compagno l'ho già sentita Adesso farò vedere che frase è This decision is a decision Brexit is Brexit Questi fiumi sono fiumi Queste rocce Sono rocce The people of UK Decided Decided The 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 way for the The future Now Now The situation is that We can And we Can And At the same time I think this decision Could Push Do you think that more should have been done to try to keep the UK on board? Because you know you said you couldn't imagine an EU without the UK Now you are gonna have an EU without the UK Shouldn't more have been done? First reaction Shock Ma anche io vorrei sapere Come 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 si fa a capire cosa dice le persone inglesi parlano così The reaction The reaction Shock Ecco adesso andiamo alla terza reaction This was the first reaction Shock Shock Because In our mind Everything Is totally connected with The UK Obviously This decision is a decision Brexit Is Brexit The people of the UK Decided The way for the future Now the situation is that We can And we have to Build The best Alliance Between The UK And EU For the future Because we will be The best friends For the next years And at the same time I think This decision Could Push European leaders To invest In a new way For Europe But You Why are you leaving? No 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 You It's It's I tried With.. An article With an initiative With.. With the political Ma il problema era un problema. Quando David Cameron decidi usare il referendum per risolvere un problema interno del Conservativo, questo era il ruolo. Non possiamo usare i affari foreigni per risolvere problemi interno. La decisione delle persone britanniche è una buona decisione in mio mente, e sono triste per questo. Ma se non accettiamo il risultato del referendum, il rischio è di dare il messaggio che il voto non è una buona cosa. La democrazia non è un assetto per questo continente. E questo è impossibile. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare come Faldina, come antifurto, per esempio. La britannica gente, la britannica governo, will decide to open Article 50. Credo che noi lavoreremo in quattro possibile in solo un modo, per risolvere ogni problema. Ma è impossibile di dare ai britannici più diretti, che gli altri persone fu fuori dell'Europa. I think this is a very interesting debate because this debate will be a debate about the concept of rules in the EU, but when the UK will decide the opening of Article 50, we will discuss about it. I think the role, the leading role will be in the hands of European Commission and not in the single states. Personally, I will be very ready to work with Teresa and other colleagues to support this very difficult process because it's the first time, so it's not easy. There is the need to solve as soon as possible the problem of UK because we employed the last two years about Brexit. From 2015 to today, the first months of 2015 to today, we discussed a lot of times about Brexit. So now it's time to solve the question. At the same time there is a sentiment of sadness. So the mood is emotionally a sad mood. Well, now we have to see the fourth thing, then the fifth thing. This is the secret of this is the secret of the shish. The word shish was a way to approach the young people. But when I said shish, everyone now is studying English. So it's a method. It's a method. It's a method. It's a method. You understand? You understand? I do. Now, guys, there will be this. That is... This was the first reaction. Shock. Shock because in our mind, everything was the first è totalmente conectato con... ovviamente questa decisione è una decisione le persone hanno deciso il modo per il futuro ora la situazione è in alto credo che questa decisione potrebbe imparare i leader europei a investire in una nuova forma per l'Europa ma il problema era un problema credo che lavoreremo in solo un modo per risolvere ogni problema ma sarà impossibile dare più diretti un'interessante discussione perché questa discussione sarà una discussione sul concetto delle regole in l'Europa ma quando? 2015 fino a oggi abbiamo discutito molte volte ora è il momento di risolvere la questione ok stoppate un attimo no 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 qui ho visto qualcosa vai vai quello lì ingrandisco questo qui ma c'ho la spazzola si qui molise perché il molise c'è? non esiste appunto terra piattisti no no mi dissocio mi dissocio mi dissocio ma questa è la Corsica quella è la Corsica si ma la Corsica fa parte della Francia mi dissocio dal gesto che ho appena fatto quindi ragazzi vi saluto ho scoperto i link di questo mongolo e dall'altro mongolo in descrizione se il molise non esiste lasciate like a 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